Se state ascoltando questa trasmissione, cercate subito un rifugio. Che succede? Tieniti forte, Nathan! Dal produttore della saga di John Wick e dal regista di Attacco al Potere 3, la fine del mondo è vicina. Si sono sbagliati, i frammenti sono tanti, ci distruggeranno. Dov'è papà? Lo troveremo. Va tutto bene. Giuro che porterò la mia famiglia in quel bunker. Il nuovo evito film con Gerald Butler. Resteremo insieme, dobbiamo solo metterci in salvo. Greenland, dall'8 ottobre al cinema.